Il Priamard di Savona, per una notte, diventa la roccaforte della musica dance con Eretic, l'evento condivato dalle tre discoteche storiche della provincia. Come è nata l'idea di organizzare una serata dentro al Priamard e con tutte le discoteche insieme, unite? L'idea è nata sicuramente dal fatto che a Savona c'era l'esigenza di organizzare una serata dedicata al pubblico dalla Night of Life e con un pubblico un pochino più giovane. Quindi la prima location che ci ha venuto in mente è sicuramente stato il Priamard di Savona perché è assolutamente il simbolo e anche per criteri di sicurezza e anche per criteri puramente di bellezza, estetici, anche della location. Per cui è nata in questa maniera. Ovviamente i buoni rapporti che intercorrono tra noi del Beach con gli altri locali che sono solo due in orizzonte, hanno fatto in maniera di unire i tre staff per dare maggiore forza, maggiore vis a tutto l'evento. Durante la serata saranno presenti anche molti prodotti locali, sponsor di aziende, realtà locali, uniti a una forza lavoro non indifferente. Quindi in una sola serata riuscirete praticamente a smuovere Savona, si può dire? Diciamo che l'ambizione sicuramente è quella di smuovere Savona e non solo. I prodotti che verranno alla meccita dalle 23.30, cioè dall'inizio del party vero e proprio, saranno tutti i prodotti nella provincia di Savona. La nostra ambizione è quella di creare un proprio party a chilometro zero, cioè creare un micro habitat naturale dove l'industria di divertimento si fonde con l'industria del beverage e speriamo anche più avanti con quella del food. Per quanto riguarda chiaramente anche il discorso della microeconomia locale, sia che daremo da lavorare chiaramente a tutte le persone della zona e speriamo anche di dare un pochino di respiro a tutte quelle aziende, a tutti quei locali. Parliamo di ristoranti, parliamo di alberghi, parliamo anche solo di bar che faranno magari l'aperitivo prima, che sicuramente ne avranno anche un beneficio.